Il principe. Antonio Gramsci, noterelle sulla politica di Machiavelli. Il carattere fondamentale del principe è quello di non essere una trattazione sistematica, ma un libro vivente, in cui l'ideologia politica e la scienza politica si fondono nella forma drammatica del mito. Tra l'utopia e il trattato scolastico, le forme in cui la scienza politica si configurava fino al Machiavelli, questi dette alla sua concezione la forma fantastica e artistica, per cui l'elemento dottrinale e razionale si impersona in un condottiero che rappresenta plasticamente e antropomorficamente il simbolo della volontà collettiva. Il processo di formazione di una determinata volontà collettiva per un determinato fine politico viene rappresentato non attraverso disquisizioni e classificazioni pedantesche di principi e criteri di un metodo d'azione, ma come qualità, tratti caratteristici, doveri, necessità di una concreta persona, ciò che fa operare la fantasia artistica di chi si vuol convincere e dà una più concreta forma alle passioni politiche. Il principe del Machiavelli potrebbe essere studiato come una esemplificazione storica del mito sorelliano, cioè di una ideologia politica che si presenta non come fredda utopia né come dottrinario raziocinio, ma come una creazione di fantasia concreta che opera su un popolo disposto e polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collettiva. Il carattere utopistico del principe è nel fatto che il principe non esisteva nella realtà storica, non si presentava al popolo italiano con caratteri di immediatezza obiettiva, ma era una pura astrazione dottrinaria, il simbolo del capo, del condottiero ideale, ma gli elementi passionali, mitici, contenuti nell'intiero volumetto, con mossa drammatica di grande effetto, si riassumono e diventano vivi nella conclusione, nell'invocazione di un principe realmente esistente. Nell'intiero volumetto Machiavelli tratta di come deve essere il principe per condurre un popolo alla fondazione del nuovo stato e la trattazione è condotta con rigore logico, con distacco scientifico. Nella conclusione il Machiavelli stesso si fa popolo, si confonde col popolo, ma non con un popolo genericamente inteso, ma col popolo che il Machiavelli ha convinto con la sua trattazione precedente, di cui egli diventa e si sente coscienza ed espressione, si sente medesimezza. Pare che tutto il lavoro logico non sia che un'autoriflessione del popolo, un ragionamento interno che si fa nella coscienza popolare e che ha la sua conclusione in un grido appassionato, immediato. La passione, da ragionamento su se stessa, ridiventa affetto, febbre, fanatismo d'azione. Ecco perché l'epilogo del principe non è qualcosa di estrinseco, di appiccicato dall'esterno, di rettorico, ma deve essere spiegato come elemento necessario dell'opera, anzi come quell'elemento che riverbera la sua vera luce su tutta l'opera e ne fa come un manifesto politico.